Ehi, sorella, è bello riaverti qui. Grazie, Aileen. Non so cosa farei senza di te. Sei un vero amico. È a questo che servono gli amici, sorella. Dai, andiamo a prendere il Doner Kebab. Niente di meglio. Oh no, Lisa se n'è andata. Vuole tornare a Francoforte. Forse stavo esagerando un po'. Marie mi ucciderà quando lo scoprirà. È meglio se non le dico niente. Hai già parlato con Lisa? Oh sì, proprio adesso. Cosa ha detto? Che tu ci creda o no. Abbiamo fatto di nuovo pace. Davvero? Come ci sei riuscito? Era davvero arrabbiata con te. So come parlare con lei, Marie. Lisa mi capisce. Sono suo padre. Wow, è fantastico. Mangiamo un gelato tutti insieme. Oh no, non funzionerà. Perché no? Io e Lisa volevamo fare un viaggio padre-figlia per tre giorni. Sai, per rafforzare il nostro rapporto. Oh, non posso venire con te. No, è davvero solo per noi due. Ok, allora buon divertimento durante il viaggio. Grazie. Ci vediamo tra tre giorni. Il mio piano ha funzionato. Ora che mi sono liberato di Murat, niente mi ostacola. Posso tornare insieme a Lisa. Dovrò aspettare ancora un po', poi le chiederò un appuntamento. Allora ciao, Murat, e bentornato, Marcus. Mi dispiace davvero per la tua caia, fratello. Walla, ha perso lei, non io. Non troverà mai più un altro tipo tosto come me. Sì, fratello, questo è l'atteggiamento giusto. Quando tornerai di nuovo qui, faresti meglio a venire a Francoforte, fratello. Questa città non mi piace affatto. Sì, fratello, il doner kebab è molto meglio a Francoforte. Non solo il kebab, ma anche i cajas, la stazione ferroviaria, tutto. Ok, fratello, vengo a trovarti presto. Ora devo prendere l'autobus. Grazie per il tuo aiuto, Ali. Sei un vero Abibi. Grazie, fratello, anche tu. Samuel, ho davvero bisogno del tuo aiuto. Che succede? Hai di nuovo intasato il WC? No, e hai detto che faremo finta che non sia mai successo. Cosa hai fatto questa volta? Lisa se n'è andata. Cosa pensavo fosse nella sua stanza? No, sta andando a Francoforte. Oppure è già lì. Non lo so. Cosa stai facendo? Dobbiamo andare a Francoforte e riprendere Lisa. E la mamma? Viene con noi? No, lei non ne sa niente. Quando lo scoprirà, mi ucciderà. Dobbiamo sbrigarci. Venite subito. Mi mancava davvero il kebab qui. Ti credo. Serkan prepara davvero il miglior kebab del mondo. Sì, e quello per 5 euro. Francoforte è molto più bella di Monaco. Comunque, dov'è Murat? Anche lui è tornato. Penso di non vederlo da qualche giorno. Li chiederò cosa sta facendo oggi. Forse potremmo incontrarci. Quanto manca a Francoforte? Saremo lì tra un'ora. Ok. Allora qual è il piano? Prenderemo Lisa e la riporteremo a casa. Non verrà volentieri. Lo sai già? Vero? Hai ragione. Devo capire qualcosa. Forse le darò più paghette. Eh. Allora voglio anche più paghette. Dimentica la paghetta. Dobbiamo pensare a altro. Murat ti ha già risposto? No, amico. Mi sta facendo impazzire. Cosa dovrebbe significare? Forse è arrabbiato con te. Ma perché? Non ho fatto niente di male. Chiedigli se vuole un kebab. Se non risponde, allora c'è qualcosa che non va. Sì, buona idea. Lo chiederò a lui. È il test perfetto. Grazie per essere venuto a prendermi Zulal. Certo, Murat. È a questo che servono i migliori amici. Perché sei già tornato? Pensavo volessi rimanere a Monaco ancora per qualche giorno. Sì. Ma c'erano alcuni problemi. Dov'è la tua ragazza? Questo è il problema. Ora è la mia ex ragazza. Oh, mi dispiace tantissimo. Prendiamo il donor kebab. Sì. Un kebab alla frustrazione mi farebbe bene. Andiamo. Ti invito. Grazie, Zulal. Sei il migliore. Non mi risponde. Ha letto il messaggio? No, mi ha lasciato visto. C'è qualcosa che non va. Ok, siamo arrivati. Em, cosa puzza qui dentro? Questa è Francoforte. Fa sempre schifo qui. Dai, prima troviamo Lisa. Più velocemente possiamo andarcene da questa città. Ok, sbrighiamoci. Fratello Serkan, che succede? Amico Murat, sei tornato. Sì, grazie al cielo. Il donor kebab di Monaco fa davvero schifo. Ti credo, fratello. Anche la tua ragazza è venuta prima. Anche Lisa è qui? Sì. Lei e Eileen si sono concessi un donor kebab con salsa all'aglio. Cosa sta facendo di nuovo a Francoforte? Non ne ho idea, fratello. Non l'ha detto. Ok, grazie per le informazioni, fratello. Certo, fratello. Cosa ottieni? Due super kebab con formaggio, per favore. Certo, fratello. Arrivo subito. Questo non lo capisco. Perché Murat mi sta ignorando? Ho fatto qualcosa di sbagliato. Non ho idea di quale sia il suo problema, sorella. Forse ne ha uno nuovo. Gli uomini sono così. Sono tutti maiali. No, Murat è diverso. Non mi farebbe niente del genere. Sì, vediamo. Dovrà tornare a Francoforte ad un certo punto. Poi scopriremo qual è il suo problema. Non dovrei chiamarlo. No, non puoi corrergli dietro. Tornerà, fidati di me, sorella. Ok, grazie Eileen. Perché siamo alla stazione ferroviaria. Perché le persone qui si rilassano sempre in stazione nel tempo libero. Oh, dagliero? Pensavo fosse un pettegolezzo. No, è vero. Probabilmente anche Lisa è qui da qualche parte. Ok, e come la troviamo? Possiamo chiedere a quel tipo laggiù. Forse l'ha vista. Sì, chiediglielo. Mi scusi, posso interromperla per un minuto? Che succede? Vuoi stress? Oh no, non proprio. Cosa vuoi allora? Hai visto questa ragazza da queste parti? Fammi vedere. Ah sì, va bene. Cosa ricevo in cambio? Non c'è niente di gratis cui. Ok, ecco dieci dollari. No, ne voglio cinquanta. Ok, ecco cinquanta dollari. Grazie, è buono. Allora, dov'è Lisa? Non ne ho idea. Non l'ho mai vista prima. Voglio riavere i miei soldi. Probabilmente non conosci le regole di Francoforte, cara. Perdetevi prima che vi crei problemi. Forza Samuel, andiamo. Benvenuti a Francoforte, idioti. È Murat, e c'è una ragazza con sé. Cosa ho detto? Gli uomini sono maiali. Forza sorella, daglielo. Murat, perché mi stai facendo da fantasma? Lisa, cosa fai a Francoforte? Ehi, rispondi prima alla mia domanda. Forse semplicemente non vuole parlare con te. O sì, e tu chi sei? Quello è Zulal, siamo vicini. Sì, sfortunatamente. Se fosse stato per me, ci saremmo trasferiti molto tempo fa. Ma il nostro affitto è davvero economico. È la tua nuova ragazza o cosa? Perché non lo chiedi al tuo ex ragazzo? È, cosa significa? Vattene da qui, sorella. Murat merita di meglio di te. E i pantaloni non ti stanno affatto bene. Neanche il tuo naso ti si addice. Zulal. Ehi, riprenditelo subito. Sai che mi farò rifare il naso l'anno prossimo. Non potrebbe andare peggio. Ehi, riprenditelo subito. O cosa? O te ne pentirai. Perché non vieni qui? Non hai alcuna possibilità. Vieni Aileen, andiamo. Non sporcarti il trucco per loro. Buona fortuna. Zulal. Ci rivedremo. Sì, esci da qui. Meglio per te. La stazione ferroviaria qui è enorme. Come facciamo a trovare Lisa lì? Non ne ho idea. E ho perso 50 dollari. È il giorno peggiore della mia vita. È meglio aspettare fuori all'ingresso. A un certo punto, deve uscire o entrare. Ok, forse troveremo qualche cambiamento anche sul campo. Allora la giornata è salva. Comunque non ha senso. Sì, so cosa intendi. Il naso di Zulal è troppo grande per il suo viso. No, non intendevo dire questo. Oh, allora cosa? Murat ha detto che dovrei tornare dal mio ex. Ma non ho avuto niente con Marcus da quando ho incontrato Murat. Perché dice qualcosa del genere? Non ne ho idea. Forse ha frainteso qualcosa. Aspetta, chiamerò il mio ex per un minuto. È il numero di Lisa. Perché mi chiama e basta? Forse vuole chiedermi un appuntamento. Sarebbe ancora meglio. Ciao principessa. Stai bene? Marcus, hai parlato con Murat di recente? Pensavo che mi chiamassi perché volevi uscire con me. Non hai risposto alla mia domanda. No, non ho parlato con Murat. Perché? Ha detto una cosa divertente. Ha detto che dovrei tornare dal mio ex. Oh sì, potrei avergli detto che siamo tornati insieme. Cosa hai fatto? Perché stai solo diffondendo così tante voci su di me? Perché il ragazzo non è adatto a te. È un cretino. Non lo capisci? Quindi cosa? Questi sono affari miei. Resta fuori, Marcus. Cosa ha fatto? Devo arrivare subito a Murat. È tutto un enorme malinteso. Pensi davvero che Lisa passerà di qui? Hai un'idea migliore? No, ma questa stazione ferroviaria è enorme. Ecco perché tutti si stanno rilassando qui. In realtà è piuttosto carino. Sì, ci si abitua anche all'odore. Mi mancherà Francoforte? Credo. Mi mancano i miei 50 euro. Forse dovremmo cercare Lisa da qualche altra parte. Voglio dire, qual è la probabilità che passi di qui? Samuel, papà, cosa stai facendo qui? Lisa, eccoti. L'abbiamo trovata davvero. Cosa stai facendo a Francoforte? Vogliamo riportarti a casa. Dai, Monaco è molto più bella. No, non posso andarmene adesso. E qui c'è un kebab migliore. Non ce ne andiamo senza di te, Lisa. Vieni con me adesso. Scusa, Samuel. Per cosa ti dispiace? Mi dispiace davvero per la tua ragazza, Murat. Va bene. Resterò forte. Sei così forte, Murat. Sì. Il mio bicipite ha una circonferenza di 35 centimetri. Ti meriti qualcuno migliore di questa Lisa. Qualcuno che ti ama così come sei. Sì. Qualcuno che non si vergogna quando ordina un doner kebab con salsa all'aglio. Esatto. Questo non mi disturba affatto. Per esempio. Davvero no? No, niente affatto. Wanzulal. Non ho mai incontrato una donna come te prima d'ora. E non ho mai incontrato un uomo come te, Murat. Murat, fai sul serio? Ci siamo appena lasciati. Mi hai tradito per primo. No, Marcus ti ha mentito. Non ho fatto niente. Davvero? Mi ami ancora? Murat, cosa stai facendo? Ci siamo appena baciati. Ti amo più del primo boccone di kebab di Serkan. Cavolo! Nessuno mi ha mai detto niente di così romantico. Preferisco rinunciare alla stazione ferroviaria piuttosto che rinunciare a te. Dici sul serio? Oh cavolo! Cosa dovrei fare? Quanti soldi vengono prelevati da Martin? A, 10 euro. B, 30 euro. C, 50 euro. Lascia un commento.